Buonasera a tutti, eccoci pronti per il nostro consueto riepilogo di quanto è accaduto sui principali mercati europei e di quanto stia accadendo sui mercati azionari americani. Oggi è stata una giornata molto importante, rimangono i soliti problemi legati ai volumi, tra poco lo vedremo a livello di contratti FIB ma anche a livello di scambi complessivi sull'intero MTA, ma abbiamo avuto un segnale decisamente importante che per il momento è un segnale se vogliamo solo di resilienza, ma questo segnale di comunque volontà di tenere certi livelli di supporto statico come per esempio, e ce ne occuperemo tra poco, il Dow Jones o la rialzista partita dai minimi del 20 di marzo sul nostro Fuzzi Made Futures allontana la potenziale rottura di questi livelli tecnici così importanti che avrebbe potuto aprire lo spazio a accelerazioni ribassiste decisamente significative. Siccome sono tanti i temi che dobbiamo trattare in questo video e devo dire che vi voglio davvero bene perché domattina avrei dovuto prendere il treno per andare a Milano e non ho rinunciato per l'alluvione, io sono tra due torrenti che sono esondati praticamente, ho qui il Savena e lì lì dice ma veramente a poche centinaia di metri dice a un chilometro, un chilometro e mezzo il Savena ma perché se fossi andato a Milano al salone di risparmio mi sarei magari anche divertito ma non avrei potuto probabilmente registrare il video del mattino e tantomeno anzi sicuramente quello serale per cui e poi ovviamente avrei dovuto rinunciare al mio trading che è sempre una grande passione per me e motivo ovviamente di ritorno economico. Dicevo non perdiamo un ulteriore tempo e partiamo subito dal Dow Jones come il nostro solito. Vedete che bella risposta che sta dando il Dow Jones e se notate oggi si è portato già sopra i massimi della seduta precedente. Quindi abbiamo un possibile test di questa ribassista e sorprenderebbe tutti ma non c'è poi troppo distante se dovesse riuscire a superare anche il massimo del 12 di maggio. 33.406 per un ritorno direi fino a 33.772-33.811 però attenzione deve rompere questi 33.406. Oggi comunque a meno di sorprese clamorose chiuderà decisamente sopra la media mobile 50 che aveva perso ieri 33.153. Aspettate che devo mettere anche le altre medie che ovviamente l'attrattore pericoloso era la media mobile 232.762. Adesso passiamo allo Standard & Poor's 500. Standard & Poor's 500 come avevo già detto era sicuramente in una situazione più positiva ma vedete che questa rialzista partita dai minimi del 13 di marzo comunque era stata avvicinata nelle ultime due sedute in questo caso la rottura sarebbe 4.154 per un primo target a 4.164 e poi sui massimi di periodo toccati di primo di maggio a 4.187. Nasdaq continua in perterrito nella sua fase di devo dire grande forza relativa perché comunque è l'unico indice americano che ha rotto a rialzo almeno tra i principali i settoriali mi scuso con voi ma non li seguo comunque il target ve lo ribadisco è 12.655. Passiamo al DAX che continua a essere in laterale sui massimi e dopo la seduta odierna c'è qualche speranza in più che possa andare a rompere 15.996 e riportarsi sul doppio massimo sul time frame settimanale doppio massimo storico 16.290-16.285 adesso portiamoci sul caccarant e vediamo che qui invece c'è un laterale con ancora poca direzionalità diciamo che non deve perdere ve l'ho già detto più di una volta 7.300 la rottura rialzo sarebbe 7.463 con un target probabilmente fino a 7.507. Eurostox è una situazione analoga a quella del caccarant in questo caso il livello chiave per il breve sempre 4.264 minimo del 4 di maggio la media mobile a 50 e 4.282 la rottura sarebbe sopra il massimo dell'8 di maggio 4.355 con un primo target a 4.376 Eurostox banks continua sempre questo trading range adesso siamo ormai arrivati a 8 sedute di fila in trading range ovviamente più questo range si protrae nel tempo più il movimento sarà direzionale il momento dell'esternale sarà molto in accelerazione media mobile a 50 104.35 media mobile a 100 106.4 a ribasso non deve perdere 100.91 per evitare un 99.29 e un 98.73 adesso dobbiamo far bene il Fuzzi Bill Fusions perché vedete che la trendline rialzista partita dai minimi del 20 di marzo in intraday era stata persa e era stata persa anche la media mobile a 50 26.770 perché il minimo di oggi è stato 26.700 adesso invece c'è addirittura la speranza che domani la possibilità perché in borsa chi vive le speranze insomma di tornare sull'area di resistenza questi 27.270 275 vediamo l'andamento di giornata a livello di intraday sul Fuzzi Bill Futures da sfera perché ci aiuta poi a vedere che purtroppo tutto sommato i contratti FIB non sono granché 12.901 però ci fa capire che dopo un minimo abbastanza profondo appunto sui 26.700 attorno alle 9.500 c'è stato un primo rimbalzo un po' di laterale e poi una risalita fino alle 15.25 e eravamo arrivati in area 27.000 inizio di movimento di correzione però di un centinaio di punti poco meno dopo l'apertura delle borse americane e poi adesso di nuovo accelerazione per cui segnale abbastanza importante diamo uno sguardo anche ai volumi e vedete che purtroppo qui c'è quel problema che vi avevo detto ovvero anche oggi pur con dei movimenti così interessanti a livello intraday abbiamo scambiato addirittura meno di un miliardo e 7 adesso dobbiamo occuparci dei vari titoli che si sono mossi peggio e meglio devo partire da quelli che sono mossi peggio e parto da Diasorin perché io come sapete avevo fino a ieri il 6% del mio capitale per il portafoglio di medio e lungo periodo che è stato codificato in una newsletter finanziaria investita su Diasorin oggi ho preferito vendere metà della posizione perché comunque è stato perso questo primo livello importante che è 102.15 e in chiusura il titolo è andato addirittura sotto la media mobile a 50 101.7 ovviamente su un movimento del genere è possibile che torni fino a 98.6 nelle prossime sedute e poi se non sui minimi di periodo magari su questo livello di 95.62 minimo del 3 di aprile faccio un attimo un escursus e mi scuso con voi purtroppo ho dovuto chiudere ho deciso di chiudere in stop profit per quella regola in cui un guadagno non deve diventare una perdita chiusa male perché chiusa a 4 garofalo io avevo un prezzo di carico 3.85 vederla ieri a 4.30 però sapete che da me potrete ottenere sempre massima trasparenza dopo la brutta seduta odierna nonostante i dati bilancio fossero piuttosto buoni ho preferito chiudere per cui ho chiuso oggi dia sorin e garofalo ho invece tenuto tutto il resto del portafoglio comprese le situazioni un po' più critiche la più critica è data logic perché mi sono dato un ultimo stop adesso ve lo faccio vedere qui praticamente su quest'area di minimi che è area 6.75 mi sembra un eccesso quello che sta accadendo su data logic però avrò sicuramente rispetto dell'ultimo baluardo vediamo adesso invece a un altro titolo e torniamo al Fuzzimi che ha fatto piuttosto male che Amplifon qui dovete insomma darmi atto che ero stato buon profeta vi avevo detto che il titolo era maturo per un inizio di correzione oggi ha dato conferma con una chiusura inferiore a 34.61 per le prossime sedute il primo livello importante è 33.22 e poi abbiamo questo minimo della spinning top del 2 di maggio che è 31.83 poi un altro titolo molto forte di periodo che oggi ha sofferto è Campari io vi ho già detto che ero un po' timoroso per la prosecuzione al rialzo di questo rally così significativo partito dai minimi del 13 di marzo oggi oggettivamente ha dato un brutto segnale direi che chi è in posizione valuti ovviamente uno stop sotto 11.97 e mezzo per evitare di rivedere il titolo a 11.48 sul minimo del 28 di aprile o sulla media mobile a 50 11.45 devo dire che tra i titoli che continuano a fare piuttosto male c'è anche Fineco perché è vero che qui non avendo perso i minimi di breve periodo di 12.375 non è detto che non stia provando a fare una base ancora leggermente prematuro per dirlo però rimane questa debolezza ed è fondamentale che il titolo non perda 12.1 minimo del 20 di marzo scusate se domani e venerdì dovesse rimanere in questo trading range e magari dare qualche segnale in più di possibile ripartenza allora sarebbe un titolo sul quale poter rientrare è stata venduta anche Biper però nulla di clamoroso perché vedete che è ancora diciamo ben sopra questa rialzista e il pericolo sarebbe solo sotto 2.609 con un primo target sulla media mobile a 50 2.512 oggi è stata venduta anche Italgas anche qui nulla di che il segnale negativo su Italgas c'è sotto 5,755 con primo target molto ravvicinato media mobile a 50 5,71 questo minimo 5,69 e mezzo e poi vedete che questo minimo del 30 di marzo è 5,59 pausa di riflessione è il caso di dire per recordati che era veramente a dir poco tiratissima adesso diventa importante che il titolo domani non perda 44.29 che è il minimo di lunedì perché altrimenti si tornerebbe subito direi tra 43,57 43 e 45 continua la fase di debolezza devo tornare un attimo sull'MTA per Brunello Cucinelli perché vedete che sta confermando quel movimento di correzione che avevo già anticipato come essere un movimento distributivo a questo punto siamo molto vicini alla media mobile a 180.1 e poi qui c'è il minimo del 21 di marzo 79,75 io ho anche già detto che non mi stupirebbe più di tanto rivedere il titolo a 75,6 o addirittura 73,7 minimo del 15 di marzo rispetto a ieri io però ovviamente ho mantenuto la posizione mi dispiace che ho potuto vedere che oggi Banca Generali è stata venduta vedete la difficoltà del mercato sì ieri uno poteva dirmi ma in fondo è andata un tic dalla chiusura gap oggi in internet è stata anche venduta con un minimo a 30.1 di positivo c'è che ha chiuso con un hammer a 30.54 sopra la media mobile a 200 30.5 debolezza anche su Banco BPM ma anche qui situazione ancora abbastanza tranquilla quando ci dovremo preoccupare? quando ci sarà una chiusura inferiore alla media mobile a 100 3,84 per un primo target a 3,788 media mobile a 50 minimo dell'11 di maggio 3,769 e poi 3,72 ma in questo momento vedo più probabile comunque un trading range direi che parliamo ancora di A2A perché? perché vi avevo già detto che ieri avevo avuto il primo sentore che potesse essere un po' a fine corsa per il breve periodo ora la rialzista a partita dei minimi 13 di marzo non l'ha ancora persa però io non mi stupirei anche qui di vedere il titolo almeno su questo 1.61.3 1.61.2 altro titolo che vi devo far vedere perché non ha avuto una variazione così negativa ma bisogna assolutamente monitorarlo è Enel perché io credo che nelle prossime sedute possa arrivare fino al media mobile a 50 5,73 e poco sotto c'è questa serie di minimi poco sotto area 5,70 che sono stati l'ultima base importante dal 6 di aprile al 18 di aprile ovviamente queste sono analisi che tengono conto della situazione attuale poi dovremo andarle a rivedere per tutti quei titoli e magari già domani o massimo venerdì farò sicuramente nel riepilogo settimanale anche se sono molti un quadro di tutti i titoli che staccano perché è ovvio che alcuni titoli potrebbero perdere anche supporti statici piuttosto importanti adesso veniamo invece alle note positive e devo dire che oggi si parte sicuramente da Iveco Iveco per il momento non bisogna illudersi sì è un engulfing bullish il titolo oggi ha fatto un bel recupero ma per dire che ci sia reale volontà di ribalzare deve andare sopra il massimo del 12 di maggio 7,638 per un target a quel punto prima sulla media mobile a 100 7,91 e poi 8,274 massimo dell'11 maggio bene anche Leonardo Leonardo devo dire che dopo questo breakout del 12 di maggio della media mobile a 50,10,95 è stato due giorni in laterale e poi oggi ha già uncinato al rialzo ha fatto una sorta di uncino di Ross per cui questo apre spazio a ulteriori rialzi fino a 11,48, 11,49 poi 11,62 Montepaschi qui devo sempre togliervi le medie perché così si vede meglio allora dopo ieri vi ho già detto che il quadro tecnico secondo me è leggermente cambiato nel senso che deve ancora confermare ma può arrivare tranquillamente a 2,27,5 e poi su questi massimi allineati che sono 2,34,6 2,35 bene finalmente bene adesso anche qui non è che siamo fuori pericolo sia chiaro per Tenaris che sull'onda di un rimbalzo del prezzo del petrolio finalmente rompe questa ribassista partita dai massimi del 16 di febbraio per cui se continua a tenere il supporto statico importante di poco superiore ad area 12 come ho già detto un rimbalzo fino alla media mobile a 50 13,32 e poi poco sotto area 14 il titolo può tranquillamente arrivare adesso faccio una uscita dal Fuzzimib per parlare di Saras io come sapete ho chiuso ieri in stop profit oggi ha già recuperato la media mobile a 200 che è 1,241 ha chiuso 1,252 qui è una partita ancora tutta da giocare io siccome il mercato è però così nervoso cercherò di essere sempre molto rigoroso per quanto riguarda gli stop poi direi che possiamo parlare sicuramente di banca Mediolanum perché oggi rimbalza in maniera abbastanza convinta dalla media mobile a 200 la media mobile a 200 sta facendo veramente da supporto e se domani dovesse superare 8 dico domani perché avendo chiuso a 7,95,6 può farcela già domani target 8,17,6 e poi massimo del 28 di aprile 8,34,6 benino dico benino perché non è ancora un segnale evidente anche che New Holland che New Holland deve rompere almeno 12,87 per portarsi prima poco sopra 13 13,08 13,075 e poi a 13,24 e mezzo massimo dell'8 di maggio Eni ecco anche Eni ha beneficiato di questo recupero del prezzo del petrolio oggi ha fatto una bella Marbozu White e soprattutto si è allontanata dalla media mobile a 200 passa a 13,077 per le prossime sedute può continuare questa fase di recupero fino alla media mobile a 100 13,607 poi fino al massimo della Shooting Star dell'8 di maggio 13,748 mi sono piaciute abbastanza anche Stellantis dopo il rimbalzo di ieri dalla media mobile a 200 oggi fa un massimo in 3D a 14,942 e chiude a 14,84 per le prossime sedute direi è possibile un 15,128 massimo del 10 di maggio un 15,236 massimo del 2 di maggio e poi media mobile a 100 15,42 ovviamente non posso escludere nemmeno la chiusura del gap lasciato aperto a 15,71 sul minimo del 21 di aprile altro titolo che oggi ha fatto abbastanza bene è STM che in realtà fatemi un attimo vedere ve lo confermo poi andrà verificato domani in after hour sta superando la resistenza statica del massimo di breve periodo quello del 2 di maggio 39 del box di congestione diciamo 39,09 se supera questo 39,86 scusate se supera questo livello e conferma in chiusura si apre veramente un'autostrada io l'ho già detto fino alla media mobile a 142,36 io sono già in posizione e sono in guadagno quasi di un euro concluderei con poste perché poste è proprio vicina a breccare a rialzo la rottura ve l'ho già detto è 9,75 primo target 10,02 10,05 poi chiusura gap lasciato aperto a 10,01 vediamo adesso ai titoli fuori dal Fuzzimib partiamo da Farmacosmo che ormai non si ferma più nella sua discesa addirittura oggi fa asta ribasso aveva ultimo prezzo 0,808 poi chiude con poco più di 15.000 pezzi 0,77 qui vi ho già detto che è un titolo dal quale purtroppo è necessario tenersi lontani ritraccia fa contro candela completamente Erfo rispetto al più 12,78 di ieri questi movimenti io me li spiego poco perché dopo la seduta di ieri io ero convinto che potesse proseguire fino magari a testare la media mobile a 100 1,418 adesso domani guardiamo perché la situazione è piuttosto pericolosa Outme allora qui mi avete scritto in diversi via mail a info chiocciola andrea cartisano punto it io ho già detto e lo ribadisco che i grafici come questo di Outme sono grafici da comprare però io non avrei fatto nulla perché non avendo capito che cosa quali sono state le ragioni per questo movimento a rialzo partito dalla metà di marzo fino addirittura a 24.8 perché non dobbiamo ridurlo al dividendo straordinario perché vedete dopo il dividendo cosa ha fatto il titolo continuerò ad ammirarla ovviamente chi avesse voluto provare il titolo sappia che sotto 11.1 è necessario stopparsi di Garofalo vi ho già parlato sono stato costretto a applicare uno stop profit attenzione a Redelfi perché si sta avvicinando su livelli molto pericolosi a livelli molto pericolosi nella fattispecie oggi ha già fatto 1.77 ha poi rimbalzato leggermente chiudendo a 1.805 sotto 1.76 e mezzo si va a mio avviso direttamente in area 1.60 dove transita la media mobile a 50 1.603 sempre venduta a Gabetti qui la situazione comincia a essere veramente pericolosa perché oggi l'intraday è andata addirittura a 0.778 poi ha chiuso con un hammer a 0.811 io vi ho già detto che avendo perso questo livello importante addirittura il target potenzialmente arriva fino a 0.704 oggi bene o male ha rimbalzato da questi livelli su teleframe settimanale della seconda e terza settimana di marzo del 2021 seduta di correzione per Vantia ma qui ci sta perché il titolo viene da rally veramente impressionante oggi fa candele inside e chiude comunque sostanzialmente sulla media mobile a 50 per chi e so che non vale per Frank questo fosse entrato nelle ultime sedute 3.91 è il livello ideale di uscita poi è stata un po' venduta Fae Technology che è in una situazione abbastanza delicata perché vedete che ha perso area 1.90 ha chiuso 1.88 oggi ha fatto un minimo 1.82 e mezzo poi ha chiuso 1.88 riuscendo a stare sopra la media mobile a 50 che è 1.87 qui purtroppo il titolo potrebbe tornare fino in area 1.70 poi siccome le utilities sono in una fase molto delicata ovviamente Ascopiave non può andare in controtendenza e vedete come Ascopiave oggi abbia perso la media mobile a 102.667 e punti probabilmente nelle prossime sedute anche a quella 200 2.545 vediamo titoli che abbiano scambiato un minimo ecco data logic data logic ve lo faccio rivedere perché vi ribadisco che io sono in posizione il mio stop è se dovesse perdere quest'area di 6.75 sono andato a rivedere bene il bilancio vi confermo che è più che triplicato l'utile netto trimestre su trimestre è stato ridotto di 40 milioni il debito e quindi da 70 adesso 30 e si è stata una guidance in effetti piuttosto debole abbiamo ancora da parlare di IREN che oggi fa una brutta seduta ma in questo caso direi che finché non perde 1.852 il titolo non ha ancora compromesso il quadro tecnico però poi si va subito in area 1.80 dove transita la media mobile a 50 adesso veniamo invece alle situazioni più interessanti dal punto di vista degli acquisti su Italia Indipendent ormai non ci sono più parole siamo la settima seduta consecutiva a rialzo il titolo non scambia tanto però bastava veramente prenderne anche poche migliaia di euro nel senso 2-3 mila euro per beneficiare di questo grosso movimento graficamente credo che possa arrivare fino a 0.91 ma non oltre parliamo del massimo della terza settimana di giugno del 2022 poi Bialetti è un rimbalzo però attenzione perché qui c'è sempre il problema della continuità aziendale per carità bel più 9,40 con quasi test della media mobile a 50 0,25 9 io credo che questo recupero possa tornare fino alla media mobile a 200 0,27 e 4 oppure poco sopra c'è la media mobile a 100 0,27 e mezzo ma direi non oltre poi ecco non ho capito molto il movimento di talea l'ex farm è comunque massimo interdea a 11,35 praticamente poco sopra la media mobile a 50 a 11,30 e mezzo poi ha chiuso a 10,90 volumi valutate inseriti in watchlist il titolo perché potrebbe essere interessante magari tornare fino alla 12 dove transita anche la media mobile a 100 poi si sta iniziando a muovere bene i volumi non sono molto elevati a R2 che vedete che però dopo questa base in area 9,20 vedete di minimi storici adesso si sta riprendendo oggi è andata a testare la media mobile a 50 10,346 ha fatto 10,35 per come si è impostato il titolo può ritornare almeno fino a 10,95 massimo del 4 di aprile poi so che fa piacere a molti sono due i titoli che so che fanno piacere a molti in Novatec e Seri cominciamo dai Novatec Bellhammer dopo un minimo interdea 1,203 chiusura 1,298 a questo punto diciamo che almeno fino al test della ribassista quindi poco sotto 1,37 ci può arrivare con un'estensione fino direi alla media mobile a 50 1,404,7 saranno però importanti i dati trimestrali che usciranno venerdì Seri anche qui abbiamo un movimento molto interessante perché Seri fa un engulfing bullish e chiude praticamente sui massimi giornata 4,76 per cui un rimbalzo fino almeno a 5,05 massimo dell'8 di maggio lo vedo assolutamente possibile ricoperture anche su masi agricola che di periodo aveva un po' sofferto oggi abbiamo una Marbozu White perfetta per le prossime sedute abbiamo in sequenza media mobile a 50 4,56 media mobile a 100 4,578 media mobile a 200 4,62 bene anche D'Amico ecco D'Amico è un titolo che io valuterei come prioritario in watch list perché il laterale da ormai 5 sedute non ha perso la media mobile a 200 0,354 oggi fa un più 3,26 con volumi in aumento mi sento che D'Amico possa ripartire con mi sento adesso sembra un un rabdomante che tra l'altro contro la pioggia che è caduta sarei anche disoccupato media mobile a 100 0,42 media mobile a 50 0,43 4 e mi sembra veramente il titolo pronto a ripartire ecco sempre forte di Italian Sea Group perché comunque dopo questo mini ritracciamento che si è fermato a 7,85 il titolo vuol tornare forse sui massimi storici a 9,10 adesso il prossimo target direi che 8,84 8,88 però titolo fortissimo ricoperture su Geox queste non me le spiego tanto perché per me era una sorta di profit warning mascherato quello del 12 maggio che poi già lì fece l'enging man con minimo a 0,96 e mezzo chiusura a 1,006 oggi abbiamo un engulfing bullish con rottura dei massimi diere a 0,95 8 se rimbalzo deve essere direi non oltre questo massimo del 15 di maggio 1,026 poi sicuramente è un altro titolo che interessa molti mondo tv andiamo a vedere che probabilmente il titolo è pronto per ripartire e ha però tutte le resistenze rappresentate dalle medie mobili a 100 0,473 50 0,48 e 15 e 200 0,50 e 25 però il titolo può iniziare una ripartenza verso l'alto poi concluderei con Cyberoo anche se i volumi non sono elevatissimi Cyberoo diciamo che sta provando a creare un supporto qui diciamo poco sotto area 5,50 non ha perso la media mobili a 100 che è 5,42 per cui mi sembra possa raggiungere nelle prossime sedute 6,08 e poi probabilmente direi area 6,30 questo massimo del 31 di marzo è 6,44 però sono abbastanza fiducioso anche per Cyberoo per questa sera ho concluso noi ci sentiamo domani prima dell'apertura del mercato diurno auguro ovviamente a tutti una buona serata che